Buonasera a tutti, conferenza stampa post partita post amichevole fra Sampdoria e Las Verona in compagnia di mister Eusebio Di Francesco. Lascio la parola ai colleghi qui presenti per due domande a testa. Iniziamo da Gianluca Tavellin dell'Arena. Buonasera mister, io ho scritto che è bastata una testata la Samp perché alla fine stringi stringi e quello il risultato, no? No, dispiace perdere perché assolutamente ci teniamo a fare il risultato in una partita in cui specialmente nel primo tempo, nei primi 30 minuti ma anche nel finale abbiamo avuto un ottimo possesso palla, una grande aggressività e abbiamo cercato più volte di poter far male alla Sampdoria e ci è mancato un po' il guizzo vincente. Siamo mancati sotto porta sia all'inizio che nel secondo tempo. Ecco bene l'ampiezza della manovra, poi lei chiamava anche spesso il pressing, l'accorciare, insomma è stato anche un discreto Verona da quel punto di vista lì. Stiamo palesando un po' le stesse difficoltà che abbiamo notato anche nella passata stagione, cioè proprio questa mancanza di cattiveria quando ci si trova nell'uno contro uno là davanti, ci si trova nel dover comunque far gol. Ma già mantenere la mentalità dell'anno scorso mi fa piacere, vedere questa aggressività, questa voglia come avevo già detto precedentemente e deve essere un po' il nostro marchio di fabbrica, la voglia anche di osare di andare a prendere gli avversari è una cosa che mi piace tantissimo. È normale che dobbiamo migliorare su tante altre cose e ci dobbiamo lavorare, per quello dobbiamo pensare solo al lavoro e cercare di arrivare poi alle partite che contano veramente con maggiore determinazione in determinati momenti della gara. Mister, le chiedo le condizioni di Faraoni e poi Zaccani credo che sia stata una botta alla fine. Il fatto che Zaccani abbia indossato la fascia di capitano significa qualcosa? Significa che ha parlato con la società, che ha parlato con il ragazzo può diventare il simbolo del Verona? Ma io ne sarei felicissimo, è ovvio che il discorso della fascia non ne ho scelto io, nel senso che hanno scelto tra virgolette i ragazzi per l'età, per l'esperienza, per gli anni passati qui a Verona, come è giusto che sia. Questo è un gruppo che ha grandi valori, principalmente anche umani, dove il primo pensiero è il noi, non l'io. Ha indossato la fascia Zaccani, a me interessa relativamente, mi interessa che Zacc si metta sempre a disposizione dei propri compagni, come sta facendo. Ha preso una botta, niente di che, poi la partita è la prima che faccia giocare i giocatori un pochino più a lungo, volutamente, per quello era anche un po' stanco. Maria Pia Beltran di Dazon Buonasera mister, erano le ultime prove generali prima del debutto in Coppa Italia, le priorità di lavoro che ha in questa fase? Beh, l'ho sottolineato prima, maggiore determinazione sottoporta, cattiveria e poi c'è da migliorare sempre. Non bisogna mai accontentarsi, il lavoro deve continuare, migliorare quello che piace a me piace anche a loro, perché la voglia di giocare a volte è stata in alcuni momenti eccessiva, non aiutati nemmeno dal campo, però il desiderio di imporre sempre il proprio gioco deve rimanere... dobbiamo sempre avere voglia di farlo in tutti i momenti della gara. È normale che esiste un avversario, che nel finale del primo tempo abbiamo un po' perso quel predominio, ci siamo abbassati un po' troppo, ma anche per merito, in quel caso lì, della Sampdoria. E come si concretizza nel lavoro in allenamento questa determinazione che lei richiede? Ma è un po' lunga da raccontare, non si può solo dire ai giocatori, dovete essere più determinati, lo possiamo dire, lo potete dire voi, vanno allenate queste cose, punte basse, perché ho tanto lavoro sul campo, maggiore predisposizione da parte di tutti, a cercare la porta, deve essere più cattivi, ma è una cosa che è come dire ce l'andiamo a comprare. No, va allenata, va mentalizzata. Sull'occasione del gol di Murillo ha qualcosa da recriminare i suoi, aveva chiesto di non schiacciarsi troppo? Hai sentito bene allora, infatti abbiamo commesso un errore, poi loro non hanno approfittato, perché una palla ad uscire, tutte e due le squadre come noi con la Sampdoria, marchi Amazona, e la palla più pericolosa a volte è quella che va sul secondo palo. Noi non abbiamo fatto gol con Gunther nel secondo tempo, che è stata una palla simile, loro sono stati bravi a sfruttare l'occasione, il calcio è fatto anche di queste cose. Su Kalinic, come l'ha visto in questa partita, come l'ha visto durante la fase di preparazione? È calato alla distanza, però nel primo tempo doveva fare gol, perché da Nicola mi aspetti gol, siccome noi, io dico sempre che i nostri attaccanti devono fare la differenza sottoporta, però ha fatto giocare bene la squadra, si è mosso bene, sta migliorando la sua condizione fisica. Alberto Fabri, alla Slyve. Ciao mister, ben trovato. Ti chiedo, in ottica mercato, oggi Casale nel rivedito ruolo di esterno, si è sacrificato e non poco, ha fatto quello che tu gli hai chiesto, però è l'ennesima conferma che tu aspetti degli esterni, è vero che oggi c'erano anche delle defezioni, però in sede di mercato qualcosa immagino che tu voglia. Ma guarda, mancava di fatti Faraoni, mancava Rueg, non avevo grandi alternative sugli esterni, di qua abbiamo solo Lazovic, è arrivato Frabotta, che ancora può essere convocato per quello, e la zona di campo dove abbiamo più necessità di mettere dentro i giocatori. In mezzo al campo ci auguriamo che arrivi prima possibile il transfert di Ilic, perché mancavano dei giocatori importanti da integrare all'interno di questa squadra, però, come hai detto, sottolineato prima, la grande predisposizione di Nicolò di Casale di fare un ruolo non suo, però era l'unico che poteva ricoprire mantenendo un certo equilibrio e cercando di fare quello che abbiamo provato in settimana nel modo giusto. Ti posso dire, guarda, anche Cancellieri è un giocatore che può ricoprire questo ruolo con caratteristiche differenti. Veloso, l'avevamo detto già nel ritiro, in una delle prime conferenze stampa che abbiamo fatto con Miguel, si è presentato in ottima condizione, oggi solo i crampi l'hanno fermato, però la sua qualità in mezzo al campo è risaputa, non scopriamo certo l'acqua calda. Ti chiedo invece di uno degli ultimi arrivati, Ongla, un altro giocatore che fa tanta legna, ma predispone anche di ottime giocate, l'ha dimostrato anche nel finale di gara oggi. Guarda, ti posso dire che tra i centrocampisti oggi, Tamezzi nel primo tempo era quello, mi sembrava più regista lui in certi momenti di Miguel, che ha più attitudine, perché sta lavorando bene, si sta mettendo a disposizione, mi è piaciuta la voglia di ricercare certe cose. Miguel, che vi devo dire, è un giocatore, è un uomo di alto livello e ce lo teniamo stretto, siamo contenti di averlo con noi, come quando arriverà Ilic, come lo stesso Ongla, che in questo momento ha avuto un piccolo infortunio e è rientrato da due giorni, non aveva tanti minuti nelle gambe. Una settimana dall'esordio ufficiale, adesso stiamo aspettando, stanno ancora giocando Como e Catanzaro, che è una delle due, sarà il nostro prossimo avversario di Coppa. Sono andati i supplementari, perché hanno pareggiato Catanzaro alla fine, nei tempi regolari, o meglio, entro il novantesimo, perdono. Ti chiedo a che punto è il tuo Verona, quella che è l'idea del tuo Verona, non ti chiedo percentuali. Allora, dal punto di vista della cattiveria, secondo me, nel primo tempo, un ottimo Verona da questo punto di vista, perché aggressivo, pressing alto, manca appunto la finalizzazione, che insomma il gioco del calcio arriva proprio a quello scopo lì. Quindi tu a che punto vedi il tuo Verona? No, al dia del pressing, ma anche nella preparazione di certe giocate, arrivare con facilità al limite dell'area avversaria, anche questo è stato importante. È ovvio che poi vanno concretizzate, il calcio è questo. Per quello, ribadisco per questa volta, migliorare questo aspetto, lavorandoci in sodo, aspetta a me dare ancora più convinzione e determinazione in questo senso. Non ti voglio dare dove siamo, dove non siamo. Cominciamo a dire che in Coppa bisogna passare il turno. Punto, bisogna essere cattivi, determinati, ma poi le partite vanno vinte. Andrea Piras, Tutto Mercato Web. Buongiorno, mister. Faccio un passettino più avanti rispetto, insomma, abbiamo parlato di centrocampisti. Le faccio una domanda invece su Barak. Quanto è importante anche un giocatore come lui, capace insomma di legare bene i reparti e mettere poi anche condizione alla punta di trovare la via del gol? Dobbiamo fargli solo crescere attorno alla condizione, perché è arrivato da poco, è uscito nel primo tempo perché era un minimo affaticato, ho evitato di rischiare di tenerlo ancora in campo. L'avrei voluto far giocare almeno un quarto d'ora in più, però abbiamo preferito così. È un giocatore molto importante, è normale che rispetto agli altri è arrivato da poco e sta interpretando anche lui, perché è giocatore intelligente calcisticamente sotto tutti i punti di vista. Sono convinto che più andrà avanti più vedremo il vero Barak, quello che già voi conoscete. Grazie a tutti, buona serata.